Utile netto di 328 milioni di euro. Il dato è contenuto nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022, esaminata e approvata dalla Consiglio d'amministrazione di A2A, che si è riunito a Milano sotto la presidenza di Marco Patuano. Il margine operativo lordo si è attestato a 708 milioni, in aumento del 3% rispetto al primo semestre 2021. I ricavi sono stati pari a 9.788 milioni, in aumento del 141,5% rispetto all'anno precedente, 463 milioni l'ammontare degli investimenti in crescita del 12% rispetto ai primi sei mesi del 2020. Prosegue l'impegno del gruppo nella finanza sostenibile. Nel corso del primo semestre, A2A ha emesso con successo due prestiti obbligazionari per un totale di 1,1 miliardi di euro. L'energia prodotta da A2A in Valtinia-Valchiavenna deriva al 100% da fonti rinnovabili, 10 ledighe e 20 centrali idroelettriche gestite. Nel 2021, in provincia di Sondrio, sono stati generati 2790 gigawatt di energia green, evitando l'emissione di 1.200.000 tonnellate di CO2. Grazie per la visione!